ragazzi buongiorno oggi dopo una settimana di fermo a causa 4 metri di schiena sto riprovando pian pianino a farmi un giretto guanigà proprio scelto una cacciata più pianeggiante almeno accidentata quando evitare evitare degli scossoni alla schiena perché sono proprio limpo c'è anche una fascia che mi protegge un po vediamo se ne vediamo qualcuno certo qua è un bosso un po sfruttato ormai siamo in periodo dove le beccacce scarseggiano vediamo comunque cosa succede ragazzi poi andiamo a mangiare il mio passaggio doppio poi magari con il bimbo magari con il bimbo Of course. Che senti sto bene. Piano! è un po' di freddo è un po' di freddo è un po' di freddo Non vengono, non vengono. Solle. E' un po' di sentire. Non vengono. che c'era Piano l'avo Piano 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 Ferma 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 Piano 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 bravissimi bravissimi si era buttato qua ragazzi stavolta preso di rimessa qui sotto l'apo qua qua scendiamolo qua qua che è caduto qua 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 ma forza che è caduto l'ho visto io cerco 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 l'apo dove 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 la porta porta bello voto qua l'apo bravo l'apo voto qua l'apo bravo 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 all Lewa bravissimi bravissimi hai sentito il ruolo ragazzi prima in teoria l'ho sbagliato perché mi è venuto addosso magari con la telecamera sembra due tre metri per l'aria invece mi è passato un metro ho sperato un corpo istintivo e poi ho cercato di vederlo mi ha dato due piccoli tronchi e magari doveva avere quella agilità come si può dire di buttarmi mezzo metro più solo per vedere ma in quel momento una non capisce niente magari sta fermo spero di vederlo e poi con questo mal di schiena ancora io che sono in buono comunque contentissimo almeno quando non ho già la trovo di seconda rimessa è troppo bello vedete lo vero dietro questa blu qua bello bello anche se non ne prendo più per me già è una grossa soddisfazione due volte sparata va benissimo a solo ragazzi quando si trovano cerchiamo di recuperare i bosso uno l'ho trovato sempre la mia RM l'altro è un po' più complicato perché è scuro ma non lo trovo un po' più complicato perché è un po' più complicato è un po' più complicato e e e e e che c'è lei papi che c'è per carci che c'è Sì, sì. Sì, è vero. ma non ci credo, non mi sono andata a tecce, ragazzi ordi stai qua qua credo spero da rumori ingeggardo sulle strantitori andata qua bassa bassa e' iniziare a iniziare a 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